Il terente Jacopo Maccione ha assunto il comando della tenenza della Guardia di Finanza di Tempio Pausania, subentrando al capitano Andrea D'Alessandro, il quale dopo due anni saluta le fiamme gialle galuresi per andare a ricoprire l'incarico di comandante della compagnia di Sondrio. Il terente Maccione, 28 anni, originario della provincia di Foggia, ha frequentato l'Accademia del Corpo dal 2012 al 2017 ed è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria. Proveniente dal gruppo Pronto Impiego di Napoli, ha diretto importanti operazioni coordinando i baschi verdi campani in servizio di contrasto al contrabbando di tabacchi, lavorati esteri e contraffazione marchi. Nei giorni scorsi gli ufficiali sono stati ricevuti dal comandante regionale Sardegna generale di brigata Gioacchino Angeloni e dal comandante provinciale di Sassari, colonnello Giuseppe Cavallaro, i quali hanno rivolto un vivo ringraziamento al capitano D'Alessandro per l'opera meritoria svolta e al tenente Maccione un cordiale saluto di benvenuto, unitamente ai migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà ben operare nel nuovo e prestigioso incarico. Lo scorso fine settimana, in piena notte, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno individuato una coppia di giovani, 25 anni lui, 20 lei, entrambi nudi, che stavano consumando un rapporto sessuale nella zona commerciale di Baza, a Olbia. I militari hanno prima chiesto ai due giovani di rivestirsi, poi li hanno informati che avrebbero proceduto nei loro confronti con una sanzione amministrativa per atiosceni in luogo pubblico. Il giovane, barista incensurato di Sassari, alla richiesta dei documenti da parte dei militari, ha tentato di ingaggiare una collutazione con uno dei carabinieri, colpendolo sul braccio e venendo immediatamente fermato. Considerato che era particolarmente agitato e che ha continuato nella sua azione per tentare di colpire i militari, è stato dichiarato in arresto per esistenza con violenza a pubblico ufficiale e accompagnato in Camera di Sicurezza, da cui è uscito solo la mattina successiva dopo la convalida dell'arresto da parte del Tribunale di Tempio Pausania. A ricordo della Notte Brava, i due dovranno pagare una sanzione da circa 10.000 euro ciascuno per atiosceni in luogo pubblico. La sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari è stata allertata intorno alle 12 di ieri per un incidente stradale sulla statale 729 che collega Olbia con Sassari nei pressi del Bivio per Monti e Telti. Per cause da chiarire, un utilitario ha invaso la corsia opposta andando a sbattere frontalmente contro un'altra auto che proveniva dal senso opposto. Ferite entrambe le conducenti delle autovetture. Sul posto è intervenuta la squadra a 7 dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia che ha aiutato il personale sanitario ad estrarre dall'abitacolo una delle ferite e messo in sicurezza la zona interessata dall'incidente. Sul posto anche la Polizia Stradale di Olbia e due ambulanze del 118. Tutto pronto per il gran concerto benefico che il tenore Francesco De Muro terrà domani sera a Porto Torres sul Sagrato della Basilica di San Gavino alle ore 22 il cui incasso verrà interamente devoluto alla Caritas di Porto Torres. De Muro eseguirà brani di musica melodica italiana ed aria ed opera accompagnato al pianoforte da Claudio Sanna. L'organizzazione è del Rotary Club di Porto Torres in collaborazione con la Basilica di San Gavino e l'associazione Musicando Insieme con il patrocinio del comune di Porto Torres. Noi abbiamo incontrato Francesco De Muro col quale abbiamo fatto una lunga e simpatica chiacchierata. Potrete seguirla in versione integrale subito dopo i Tg e in replica come indicato nella nostra agenda di fine telegiornale. Tradizionale appuntamento stamattina nel reparto di pediatria dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari dove circa 30 bambini hanno sfilato con i piccoli candelieri dei Sarti, dei Picapietri e degli Ortolani che dopo l'appuntamento nel piazzale antistante al Santissima Annunziata hanno sfilato fino ad arrivare al reparto di pediatria dove ad attenderli c'erano i piccoli pazienti ricoverati. Presenti il primario di pediatria, il professor Antonucci, e la responsabile del reparto malattie infettive, la dottoressa Sabino. Sono state donate al reparto magliette e medaglie. In ricordo di questa giornata, tradizionale appuntamento estivo organizzato dall'Intergremio e fortemente voluto dal vicepresidente dell'Intergremio Marco Dettori che cura ogni anno la manifestazione con impegno ed emozione per coinvolgere i piccoli pazienti che trascorrono così qualche ora di allegria senza pensare di trovarsi in un reparto di ospedale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! In questa campagna acquisti la società del presidente Secchi ha portato in rosso-blu giocatori importanti per la categoria come Alessandro Masala, direttamente da Latte Dolce, Andrea Congiu che con il Lanusei ha vinto i play-off nella scorsa annata, Alberto Cosentino che riabbraccia la Torres dopo quattro stagioni e Marco Russo con un passato in Serie C con le maglie di Lucchese e Arzachena. Sempre da Latte Dolce è arrivato Marco Sartor che ha saltato l'ultima parte di stagione con i bianco celesti ma nei primi mesi si è fatto sempre fatto trovare pronto realizzando sei gol in dieci partite. Molti sono i giovani arrivati alla corte di Mister Mariotti tra cui Stefano Rui, Ju Simone Capra e Davide Viale. La squadra verrà presentata alla città il 13 agosto, una data sicuramente importante per la città perché anticipa quella fecchiamanna che Sassari aspetta con tanta ansia per tutto l'anno. Di seguito le interviste a Mariotti, De Martis e Rui. Dopo le esperienze con Alba Longa e Monterosi, il ritorno in Sardegna, dove è nata questa scelta? Beh, non era tanti anni fa, era un punto mio, un obiettivo, allenare una piazza come la Torres, ci sono riuscito dopo qualche anno, qualche anno ottimo, dei risultati ottimi, però ci siamo messi in discussione, mi sono messo in discussione, il Presidente mi ha cercato poco prima della fine del campionato, la salvezza poi è raggiunta, si è tutto materializzato, era già da tempo che la cosa era fatta, sono molto contento, è inutile dirlo, insomma, se no ripeto sempre le stesse cose che devo raggiungere, è stato un obiettivo, l'ho raggiunto e perciò è una cosa che appresso a fare e già ho iniziato con grande ardore, con grande voglia veramente di fare bene. Dopo la salvezza ottenuta per gli auto, la Torres vuol fare un campionato diverso rispetto a quello scorso anno? Assolutamente, perché anche vuol dire fare peggio dell'anno scorso, vuol dire riuscire, perciò sicuramente dovrà essere un campionato con altri obiettivi e sicuramente dovremo cercare con tutte le nostre forze, minimo, di fare meglio dell'anno scorso. Siamo con Giacomo De Martis, giocatore della Torres, quali sono gli obiettivi di questa stagione della squadra? È difficile dare degli obiettivi in questo momento, siamo solo all'inizio, sicuramente siamo una squadra ambiziosa, stiamo lavorando un po' per amalgamare questo gruppo che è sicuramente nuovo, siamo ripartiti con una base quasi totalmente diversa da quello dello scorso anno, ma vedo comunque che i propositi sono quelli giusti perché c'è un bellissimo atteggiamento nel cercare di accontentare il mister nei suoi dettami sia tecnico-tattici e sia di spirito, quindi sicuramente possiamo con questo atteggiamento tirar fuori sicuramente delle buone soddisfazioni sia per noi che per Sassari. Buoni innesti come quelli di Congio e Masala che hanno disputato anche la finale play-off, l'obiettivo quest'anno sarà quello di migliorare quanto fatto lo scorso anno, anche con un mister nuovo come Mariotti. Ma questo assolutamente, certo, si parte con delle aspettative piuttosto diverse, ma sicuramente abbiamo accantonato quello che è successo l'anno scorso e siamo tutti convinti che questa di quest'anno possa essere una storia completamente diversa. Dopo Latte Dolce Lecco l'arrivo alla Torre è una scelta facile per te o ci hai pensato più volte? Facile perché mi fa molto piacere per giocare per la scuola della mia città, quindi è stata una scelta facile da quel punto di vista. Quindi è un orgoglio vestire la maglia della Torre, è stato un piacere. Quali senti dire ai tifosi? Che devono sostenerci, noi cercheremo di dare il massimo in campo per farli gioire e stiamo lavorando proprio per questo tutti insieme. Questo ritiro che cosa prevede? Le doppie sedute? Cosa vi sta facendo fare il mister? Abbiamo fatto i primi tre giorni di allenamento singolo e adesso ci aspettano oggi di seduta doppia, domani, dopodomani di seduta doppia, sino a domenica che è quello giorno di riposo e poi si riprenderà a lavorare tutti insieme. Quali sono gli obiettivi di ruglio e della squadra? Sicuramente di mettermi in mostra, di fare il bene della Torre, ma anche il mio bene, quindi di giocare bene e anche della squadra di raccogliere i risultati, di raccogliere il più possibile e appunto far felici ai tifosi e tutta la città. E adesso non pensa più a niente, Doppio appuntamento a Stintino. Sabato 27 luglio, Sagra del Tonno. In piazza dei 45, Tonno alla griglia e tanta musica con note d'autore. Mentre domenica 28 luglio, nel Porto Vecchio, grande spettacolo con il concerto di Beppe Dettori che presenta il suo nuovo album Chiocciola 90. Per tutte le info sulla Sagra del Tonno possiamo visitare la pagina Facebook della Proloco di Stintino. Per il concerto di Beppe Dettori troviamo tutto sulla pagina ufficiale Beppe Dettori. Cagliari International Wine and Food Festival il 26 e 27 luglio. In piazza del Carmine, una due giorni all'insegna del vino e del buon cibo con oltre 40 cantine, tanto street food, show cooking e laboratori di degustazione. Per scaricare il programma completo basta cliccare sulla pagina Cagliari International Wine and Food Festival. Il 27 e 28 luglio a Cabras, Sagra della Bottarga. Le preziose uova di Muggine saranno protagoniste in un grande evento che proporrà degustazioni di piatti a base di bottarga, mostre dedicate, musica e balli. Per saperne di più possiamo visitare la pagina Sagra della Bottarga. A Sidi, dal 25 al 28 luglio, Appetitosamente è il Festival regionale del buon cibo una quattro giorni dedicata alle produzioni di qualità, collaboratori, degustazioni, cene in strada e concerti. Sulla pagina Appetitosamente Festival regionale del buon cibo possiamo scaricare il programma dell'evento. Dal 25 al 27 luglio Birralguera a Dalguero. Fiume di birra nella splendida cornice del Forte della Maddalena con 60 birrifici artigianali e un ricco programma musicale tra concerti e DJ set. Tutte le info utili le troviamo sulla pagina Birralguera Sardinia Craft Beer Festival. Se volete segnalare o promuovere un evento inviate una mail a infochiocciolasardinianlife.it come in te sei pillone ciappone E negu sigli come in tarra zurrata ma è sempre intattu e non sai cosa di Luca fea zenti e si pazzi titti Ed uña dira amante sin ragioni sinu e cimentu già son matoni Mago ze kitu d'andabe, sirapilla sempre gunne Abagino, fira bontzupio, patruioa handiakaka Nemmo coi trato mi becku c'ha priato, e tutta coi patighi intorritato L'umor si mochiaga che cosa da dì, a io fai pressa a chi temi a chi pì Ed un'adira ma te si ragioni, si coci me c'u c'ha so mattoni Mago ze kitu d'andabe, sirapilla sempre gunne Abagino, fira bontzupio, patruioa handiakaka Finzaro i'obbi i faro guzzichini, sara puro pui patirà mulieri Ma oggi è fennari e si poni a cantà, tanto lo sa che fin soli di nà Ed un'adira ma te si ragioni, si coci me c'u 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 c'ha so mattoni Ma forse, giruta andabene, sirea pilar sempre uguale Ela bagito, sirea forzupio, patruioa adiak agar Música Grazie a tutti. Telefono 366-5090-868. Sulle note della solidarietà, concerto benefico del tenore Francesco De Muro, sabato 27 luglio 2019 a partire dalle 21, sagrato della Basilica di San Gavino. Speciale intervista al tenore Francesco De Muro, in onda sulla nostra emittente stasera alle 15.30 e alle 22.15, domani alle 17 e alle 21, domenica alle 16.30 e a mezzanotte. ASD Liberty Club Bancali, calcio a 5, tennis, pallavolo, scuola calcio bambini, conferenze. Telefono 340-90-430-77. TG Informazione ed Approfondimento Orari di MS in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30, in onda 24 ore su 24 sul canale 115 di Libera TV. Orari diheit oa Unico Ancqua In veto Grazie a tutti